Allora, stiamo partendo con la terza concorrente del carallo vicente, vi ricordo, vi ricordo che deve in 20 minuti spendere 1.000 euro in 3 riscita commerciale all'interno del centro. Luca, ci siamo? 3, 2, 1, 1... Abbiamo scavalcato i clienti e ringraziamo naturalmente i clienti per la loro disponibilità, ma c'è uno già naturalmente qui che deve assolutamente spendere e sta fremendo perché il tempo passa e sono tutti diversi, è andata sui telefonini, non male, vediamo, vediamo. Un attimino i prezzi, perché ovviamente i telefonini costano, costano molto, quindi siccome il giorno deve spendere in 3 attività commerciali che sicuramente erano, l'importante è farlo ovviamente nel running, cioè stando di 1.000 euro, altrimenti rischiamo di andare fuori dalla cifra che dice, insomma, vediamo, vediamo cosa succede. Il tempo sembra facile, ma non è facile. Il tempo basta, perché è un gioco birro a fare, perché cosa succede? 500 euro, 254 euro, abbiamo ancora tempo e ancora due negoziosi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.